buon pomeriggio a tutti cari amici bene avevo ancora il pc acceso mi sono accorto che pochi giorni fa si è svolta la coppa intercontinentale di pala canestro edizione anno 2020 edizione in particolare credo numero 29 dal 7 al 9 febbraio in spagna san cristobal della laguna con i partecipanti canarias virtus bologna san lorenzo e vaipas che ci sono piazzate rispettivamente dal primo al quarto posto ma veniamo alle partite principali nelle semifinali la nostra virtus bologna ha superato il san lorenzo per 75 57 invece poi i spagnoli delle canarie hanno vinto 110 a 89 contro la rio grande valle nella finalina terzo posto san lorenzo si è imposto sulla rio grande valle per 97 90 nella finalissima la nostra virtus bologna ha perso seppur di soli 8 punti contro le canarias per 80 72 bene per la giornata di oggi credo che insomma siamo proprio a conclusione visto che anche se tornerò più tardi penso che può bastare così per oggi per i video ci vediamo domani quindi i video sono qui vedetevi e in conclusione la nostra virtus bologna la coppia intercontinentale è giunta seconda perdendo in finale di soli 8 punti contro le canari 80 72 ciao a tutti